Salve ragazzi benvenuti del mio canale, oggi siamo qua perchè oggi vi farò vedere questo diorama qua che ho fatto oggi, stamattina in pratica volevo farlo farlo vedere, quindi questo è il diorama del mio 3475, di T5, con la mia medica invernale mi piace molto in primis il terp, il pezzo di tenda quale adesso c'è, perchè è un fazzoletto colorato, adesso si può vedere qua come si può vedere anche sotto il terp che è verde e il cingolo che è forse la mia parte preferita, il diorama io l'ho ricoperto tutto di neve prima, però in pratica nel senso che quando asciuga poi diventa tipo trasparente se è uno strato molto fino qui c'è la neve, ovviamente mi piace molto essendo il fatto che secondo me il carramato alzava la neve, sotto i cingoli la neve non c'è, anche di lato infatti la neve, come ho detto prima, non c'è, perchè di fatti il cingolo alza la neve quindi mi posso dire che mi piace molto o meglio la macchera di qui e niente, ciao 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 ciao